Sono veramente lieto di questa occasione che mi si presenta di parlare a voi. Spero che le mie parole suggeritemi da una meritata competenza siano tali da creare tra voi quell'armonia di intenti ideali tali da portare il Teatro Comunale dell'Opera di Brindisi e quei posti di primato che la storia e il destino gli hanno segnato. Viva, viva il Teatro Comunale dell'Opera di Brindisi! Viva il Teatro Comunale dell'Opera di Brindisi! Ma qual è il Teatro Comunale dell'Opera di Brindisi? Intanto sono davvero molto rammaricato, sono piacenti di non essere lì con voi. Io farei un salto, comunque credete il mio cuore è con voi tutti. Ma purtroppo avevo un impegno precedente, sono qui al Teatro dell'Opera di Roma fra gli interpreti del Barbier di Sviglia di Rossini. Che cosa faccio? Cosa posso fare? Il vecchio Giustino fa Ambrogio, uno dei servitori di Don Bartolo. Quello che è sempre un morto di sonno, quello completamente obnubilato. Quindi per me veramente è una grande chance e francamente devo dirlo, mi dispiace di non poter essere a Brindisi con voi. Il Teatro, il Teatro dell'Opera di Roma e il Teatro dell'Opera di Brindisi, ma qua è il Teatro dell'Opera di Brindisi. Vediamo di riflettere un pochettino. Una volta a Brindisi c'era, ecco facciamo così, una volta c'era il Teatro, c'era il Teatro Verdi, bellissimo, magnifico, stupendo, aveva un sipario splendido che era veramente la fine del mondo. Io mi ricordo che ho visto dei grandi tempi, il mio padre era un giornalista, quindi noi avevamo il palco della stampa che era in proscenio, quindi li potevo toccare tutti quanti, gli ho visto le opere, gli ho letto la Madame Butterfly, la Forza del Destino, la Tosca, insomma non ho potuto vedere, ho conosciuto grandi interpreti perché come dicevo mio padre era un giornalista e avevamo il palco della stampa che era proprio appiccicato al palcoscenico, toccavamo gli interpreti, Borgioli, Stracciari, Tancredi Pasero, la Maria Caniglia, la Mercedes Scapsir, questo per quello che si riferisce alle opere. All'opera, poi dopo c'era la prosa per esempio, il mio angelo Musco con l'eredità dello zio Bonanima, l'operetta, sì l'operetta addirittura e poi c'erano quegli spettacoli fatti dai ragazzini e mi ricordo che c'era un piccolino che si chiamava Iaia che cantava, aveva una voce superlativa e diventò un grandissimo tenore internazionale. E poi le grandi compagnie di rivista di varietà, da ma spettacolo per esempio, non so, Sportelli, la Sportelli Valori, Fanfulla famosissimo, oppure i fratelli De Rege, i fratelli De Vico, chi c'era più aspetto, Tognazzi, Tognazzi, Macario, Dapporto, insomma ho potuto vedere di tutto, è stato forse il teatro, siamo venuti addirittura a Brindisi con il dito nell'occhio di Parenti Fondurano, abbiamo avuto al Verdi uno stremitosissimo successo e dopo un po' questo Verdi è scomparso, non c'è più il teatro Verdi, sono ritornato a Brindisi, cercavo, gli spettacolo, ma dove il teatro? No, non c'è più, era un po' fatiscente e così è stato demolito, come hanno demolito il teatro Verdi? E hanno demolito il teatro Verdi, però oggi hanno costruito un teatro magnifico, bellissimo, superlativo, che è veramente la fine del mondo, c'è di tutto, la tecnica moderna, qual è il teatro? Però è un po' di anni, un po' di anni che non si riesce ad inaugurare, a prepararlo, insomma, per fare una stagione, ma che cosa aspettano, insomma, a Brindisi, la stagione? Ma teniamo le fueche, teniamo la festa di Sanghiatoro, a Sanghiatoro sono l'inucente, la copeta e poi nel gazebo c'è la banda e la banda, le face la banda l'opera, come si dice, lo flauto faccio lo soprano, lo clarino faccio lo mezzo soprano, la trombetta, la cornetta faccio il tenore, lo trombone faccio il baritino, vabbè, ma insomma, uno non può vedere le opere in piazza, se tanto aspettando il Sanghiatoro, ma i Sanghiatoro stanno nel fuoco dell'artificio, tutte quante settate, sopra scalinate dalle colonne terminali, quali colonne terminali della via Appia? Non solo non c'è più il teatro Verdi, a Brindisi, non ci sono nemmeno più le colonne terminali della via Appia, che erano l'emblema della nostra città, non so, Roma c'è il Colosseo, Milano c'è il Duomo e noi a Brindisi avevamo le due colonne terminali che svettavano in cielo dei terminali della via Appia, non ci sono più, una alcuni secoli addietro fu ceduta a Lecce e su questa colonna terminale della via Appia ci hanno messo il Santo Ronzo e l'altra dice, ma era un po' che sembrava che barcollasse, allora l'hanno smontata, per cui a Brindisi non ci sono nemmeno più le due colonne del terminale della via Appia, come Brindisi, una città così importante, che è veramente una specie di proscenio verso il mondo, ma voi pensate tutti quanti gli stranieri che vengono a Brindisi, questo movimento che c'è di navi che vanno, che vengono e vi riseguito, c'è un movimento di turismo, gli stessi cittadini di Brindisi, gli stessi cittadini, noi andiamo a vedere, meno male che c'è Grassi con il cinema e il teatro l'impero che fortunatamente ospita le compagnie, noi abbiamo avuto anche il privilegio di lavorare lì, meno male che c'è il cinema e il teatro l'impero che poi è un teatro confortevole per la verità, certo non è quella magnifica costruzione che mi hanno fatto vedere da fuori e che non è agibile, ma la cosa è veramente drammatica, io non so come poter fare, non so che cosa poter suggerire, io vivo per esempio da circa 27 anni a Prato, ridente cittadina della Toscana, a Prato c'era un teatro, si chiamava Politeama, che era anche quello veramente stava crollando, tutti i cittadini di Prato si sono tassati per poterlo veramente rimettere a nuovo e ricostruire e hanno ricostruito tirando fuori un milione, due milioni, chi ha comprato una poltrona, chi due, chi ha comprato un palco, hanno rimesso a nuovo il Politeama di Prato, insomma dico vabbè certo a Prindisi non c'è bisogno di fare collette per mettere a nuovo il teatro, perché il teatro nuovo c'è, sì c'è però è un monumento, un monumento a che cosa? Un monumento alla dimenticanza, al disinteresse, io ecco se potessi fare qualcosa non so che cosa, certo non c'è bisogno di fare collette come dicevo a Prindisi, perché il teatro ormai c'è, ma che cosa aspettate? A Prato è venuto addirittura ad inaugurarlo Muti, ecco la grande orchestra e quindi finalmente anche Prato avrà leo perché metastro Sazio era piccolino, le opere non si possono fare, però al Politeama sì, e che cosa aspettano i miei concittadini? Che cosa aspettano? Che cosa posso fare? Io posso fare ben poco, non lo so, ditemi voi, suggeritemi, mandatemi dei fax, fatemi delle telefonate e ditemi Giustino vedi un po', vedi tu lo picca, ce puoi fare, posso fare ben poco più che spronare coloro che sono, intanto voglio ringraziare infinitamente coloro che mi hanno invitati e mi scuso per non essere potuto, insomma non sono venuto a Prindisi perché sono qui al Teatro dell'Opera, però con il mio cuore sono accanto a voi, quindi cercate di convincere coloro che sono preposti alla ripresa, alla rimessa a punto, alla risistemazione di questo magnifico teatro che è veramente un monumento, ma è un monumento come dicevo prima alla dimenticanza, invece deve essere un monumento importante come il monumento al marinaio, come le due colonne che è beva bene, sono più, quando rimetteranno a posto la colonna terminale dell'Evapia che sia un monumento all'arte, perché è peccato che Prindisi non abbia veramente questo grande palcoscenico, essendo la stessa città, un palcoscenico come dicevo prima, verso il mondo, con quel porto magnifico, insomma, vediamo di metterci tutti quanti insieme, non voglio fare come politici, ci mettiamo ad un tavolo, c'è la piattaforma, discutiamo meno, ma il teatro c'è, quindi datevi un po' da fare anche voi, quel che posso fare lo farò io, intanto vi saluto, vi ringrazio e buona fortuna al teatro comunale dell'Opera di Prindisi, dal vostro, dal vostro, sì, Giustino Durano. La mamma è preparata la podica, che n'ha di capparine e pumitori, l'è fatto con lo grano di la spiga, ne tena tutta casa di l'adori, pensa con mangi e bibi, non te ne caricare, stasera pillo prieci, uno passo da già da, pensa con mangi e bibi, non te ne caricare, stasera pillo prieci, uno passo da già da, ciao ciao.